Amici sportivi a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati. Dunque Lucchese in Sardegna a chiudere un bel girone di andata che potrebbe diventare ottimo nel caso di una vittoria ad Olbia. Si gioca sabato alle 17.30. Maraia ha le idee chiare con un paio di dubbi in difesa dove Bacchini è squalificato e dove Benassai è stato colpito da un attacco influenzale, casomai spazio a Merletti, e in attacco dove Ravasio con la Cararesi è andato molto bene, ha segnato anche il gol del momentaneo 2-2, ma c'è un Romero a dir poco scalpitante. Per il resto in Sardegna giocherà l'11 tipo che cercherà di infilzare l'Olbia degli ex Minala, Babbi, Nanni e Zanchetta. Per il calcio di Serie D, dopo D oppi in attacco, un bel colpo anche per la difesa del tau calcio Alto Pascio. La società Amaranta ha ufficializzato l'ingaggio di Alessio Zini, difensore classe 1998, cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli. In Serie D ha giocato con le maglie di San Donato, Tavarnelle, Montevarchi e Imolese. Sarà a disposizione di Mister Cristiani già per la trasferta di sabato a Poggi Bonsi. Siamo all'Hockey, a Forte dei Marmi sarà giocato in questo fine settimana uno dei gironi più equilibrati per l'accesso alla Champions League. Si contenderanno i primi due posti che serviranno per entrare nella fase a gruppi. Il Forte dei Marmi, padrone di casa, il Galileo Follonica e le due squadre catalane molto forti del Noia e del Caldes. Ricordiamo che passano solo le prime due classificate. Si giocherà venerdì, sabato e domenica. E adesso rally del ciocchetto, fine settimana all'insegna di questa corsa che caratterizza l'epilogo stagionale nel mondo del rally. Tutto è pronto al ciocco per la 31esima edizione del ciocchetto Event Memorial Maurizio Perissinot. Il tradizionale rally sotto l'albero, che ormai è da lontano 1992, manda in archivio la stagione rallistica. Come sempre l'Organization Sport Event, diretta da Valerio Barsella, ha fatto le cose in grande stile, riuscendo a portare sul colle di San Quirico e non era affatto scontato 90 equipaggi. Tanti sono discritti, il numero massimo consentito, con almeno una dozzina di macchine di R5, pronte a dare spettacolo, garantito. Su tutti, naturalmente, al via con il numero uno Paolo Andreucci, l'inarrivabile campione Garfagnino, fresco vincitore per il secondo anno consecutivo del tricolore terra che lo porta ad un totale, anche questo inavvicinabile, di ben 13 titoli assoluti. Non mancheranno però gli avversari in grado di impensierirlo, basta scorrere il sontuoso ordine di partenza per capire che piloti del calibro di Michelini, a ritorno dopo il pauroso incidente di Pistoia, Peri, Cotosi, Falleri, Ciavarella, Santini e Ferrarotti, sono in grado di battersi almeno per il podio. Tra le curiosità, la lotta in famiglia tra Andrea Marcucci, padron del Ciocco e i giovani rampanti figli Luigi e Francesco. Interessante scoprire chi la spunterà. Venerdì, la giornata riservata alle verifiche tecniche sportive. Sabato mattina, dalle 9 alle 12, la possibilità di ricognizioni. Alle 13 e 30 scatterà la corsa, con la prima tappa, che prevede i passaggi su Collegia e il Ciocco, per ben quattro volte un totale di otto speciali. Domenica mattina si ripartirà di buon'ora alle 8 per la seconda e decisiva tappa. Ancora 8 speciali da affrontare con quattro passaggi su Stadio e Noi TV, laddove una volta era la sede della nostra emittente. Arrivo alle 14 e 45. Vedremo se Ucci calerà il poker di vittorie, oppure chi succederà nel ricco Albodoro a ciuffi ciuffi, che non saranno al via. Come sempre fa gola anche il Memorial per i sinotte nel ricordo dell'indimenticabile Icio, trofeo che andrà al primo navigatore classificato. Altro premio alla vettura addobbata e giudicata più natalizia. Ed ancora il trofeo Università del Tornante, escluse le vetture R2, voluto dal Rally Club Amici del Filato, per dare risalto a coloro che non potranno ambire ai vertici della classifica. Da notare che al Ciocchetto si chiuderà un'altra stagione di successo per il premio Rally a Cilucca, se è raggiunta la 17esima stagione, che punta a valorizzare al massimo l'espressione motoristica dei suoi affiliati. Noi TV dedicherà servizi nel TG Sport e uno speciale rombo di motori alla corsa, mercoledì 21 dicembre alle 22.15 con Valerio Barsella e Paolo Andreucci, ospiti in studio. La scherma a Verona, prima prova nazionale del Grand Prix Joy of Moving Under 14 di scherma di Sciabola. Per la Puliti Lucca ottima la prestazione di Vincenzo Giordano, classe 2010, che ha conquistato il secondo posto nella categoria ragazzi. Giordano è stato battuto in finale dall'atleta romano Sciullo. I ragazzi erano accompagnati dagli istruttori Gioele Antonetti e Stefano Sbragia, ragazzi della Oreste Puliti, tutti fra i 10 e 14 anni. Ed è tutto pronto al Moreno Martini per il cross di Natale della Virtus, un'occasione di festa legata all'attività sportiva e allo spirito di gruppo, una gara simbolica riservata agli atleti del settore giovanile, in particolare alle categorie esordienti ragazzi e ragazze, cadetti e cadette. La manifestazione avrà inizio sabato alle 15 e si concluderà con la visita di Babbo Natale, ancora per l'atletica, a coronamento di una stagione da incorniciare, il gruppo sportivo Lammari ha tenuto il pranzo sociale per salutare il 2022 e per festeggiare le atlete che hanno contribuito agli splendidi risultati, culminati ad ottobre con la conquista dello storico scudetto ai campionati italiani di società. Presenti i massimi dirigenti e le atlete del sodalizio lammarese, che tra l'altro hanno accolto anche la new entry Federica Proietti. A Rimini le finali nazionali Silver Winter di ginnastica ritmica, tutte le ginnaste della Ritmica Lucca hanno ben figurato con un bottino di 20 medaglie, in particolare si è messa in evidenza la piccola Vera Menghini, classe 2013, che ha conquistato due medaglie d'oro e anche da segnalare l'oro di Lara Giannecchini, che ha stregato la giuria col suo carisma, conquistando la medaglia d'oro nel cerchio in una categoria diversa da quella di Vera. E siamo al Biatron, parliamo del Biatron e della Focolaccia. La Focolaccia fa crescere giovani con l'obiettivo di un'attività futura, magari anche agonistica. Poi, si sa, il campione è per la Serie 1 su 1000 ce la fa. Così, un paio di settimane fa, la nuova stagione invernale a cavallo tra il 22 e il 23 ha preso il via con il primo raduno di Valmartello in Trentino, località che si è giudicata all'edizione 2025 dei campionati europei di Biatron. Una specialità affascinante che combina tiro a fondo e che comincia a fare proseliti anche in Italia. In alcuni paesi, citiamo la Germania, assurge il ruolo di sport nazionale. Senza esagerare, la Focolaccia cercano di proporre dei giovani in gamba e due di questi si sono già messi in bella evidenza, Miriam Michelucci e Morris Teragnolo, allenati e seguiti con scrupolo e professionalità dai tecnici Marco Guidotti e Gabriele Giambastiani. Ebbene, c'era attesa per il loro debutto in Coppa Italia, categoria Giovani Juniors, dove rappresentavano la Toscana sulle nevi di Fornia Voltri e qui ci siamo spostati in Friuli. Purtroppo un attacco influenzale, proprio alla vigilia, impedito alla lucchese Miriam Michelucci di gareggiare, privandola così del primo probante test stagionale. È invece sceso in pista Morris Teragnolo, che appunto vediamo in azione. Nella gara sprint ha commesso qualche errore di troppo, tre a terra e uno in piedi che gli hanno impedito di attaccare le prime 15 posizioni della classifica. La neve pesante lo ha inoltre penalizzato, che si è dovuto accontentare la fine, proprio del 23esimo posto, piazzamento che non lo soddisfa e non ne rappresenta il reale valore tecnico. Morris è invece piaciuto per i progressi palesati nel fondo. Prossimo impegno della Focolaccia, sabato 17 e domenica 18 dicembre a Pinzolo, nel trofeo Cone d'aria compressa, riservato ai nati del 2010-2011, dove ci saranno tutte le discipline invernali, sia della neve che del ghiaccio. E' proprio il caso di dire, piccoli sciatori crescono. E proprio grazie alla collaborazione con la Focolaccia, 16 atleti del team Allegra Brigata di Lucca Special Olympics stanno gareggiando sulle piste di Sappada, fino a domenica prossima nei giochi nazionali invernali Special Olympics Italia. È tutto per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi, adesso una breve pausa e poi subito dopo la terza ed ultima parte. Grazie a tutti.